E ciao a tutti ragazzi, faremo oggi un video di Happy Wheels Io sono James Kent con il nostro amico Michael Faraone Ma Happy Wheels è un gioco di pupazzetti Questo, che già forse lo conoscevate Dell'altro video, c'è pure un altro video su questo Guardate qui, questo è Happy Wheels Che fortuna che hai avuto Mamma mia Questo è proprio bestial, fortuna bestial Faremo un altro livello Questo praticamente è l'uomo in bagno, l'uomo sul cesso Forse il cesso ha schiacciato l'uomo Sì Aiuto Il cesso, il cesso assassino praticamente Ti prego fammi uscire, dice quello Guarda, so fare la verticale Nooo Ah, so spaccato Guardate qui No ti prego, l'uomo col cesso no Super jump Da dove, che cosa succede ora? Super salto Ora questo muore No, non è uscito sangue Un altro Un altro Andiamo Aiuto Mamma mia, il braccio staccato sulla signora Yabatabadu Yabatabadu Faccio, fai di nuovo quello del cesso Fai di nuovo quello del cesso Ahahahah, guardate Guardate, me ne ho troppo forte sto gioco Ora facciamo questo Yabatabadu 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 Yuu, nyu, ko so ko po, Ah, che schifo, che schifo, ragazzi, che schifo. Cookie! Ma che succede? Aiuto! Aiuto, Babbo Natale muore! Ah! Ha vinto, Babbo Natale, tutto sfracellato. Questo è il terz'ultimo. Sto scherzando, naturalmente. Aiuto, Radance, aiuto, aiuto! Vabbè, il bambino muore. No, 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 sì, sì. Vai, 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 vai. Vai, il bambino che sanguina. Vai, il bambino. Deve arrivare alla fine, dai! Ce l'ho fatta! Senza gamba, però. La ciccola, la ciccola. Non so che cosa succede. Aspettiamo. Ecco. Ah, è quello di prima. Aiuto! Il signore! Povero signorino. Un altro livello, vediamo. Vediamo questo livello che soppre se ci dà. Aiuto! Aiuto! Muoviti, anche se sei senza corpo. Ah, il bambino urla! Aiuto! Diana Jones, senza cappello! Ah, che schifo, che schifo ragazzi. schifezza. Di nuovo, Diana Jones! Mamma mia! Aiuto! Il corpo! Guardate il corpo! La vescica! La vescica! La vescica! La vescica! La vescica! Oh, oh. E' viva! Aiuto! Victoria! Va buona tale. Va buona tale. ma non ti è capitato un babbo natale chi sia stato non ci sa forse è qua lì nella vana aiuto ma cosa sono quelle cose aiuto bottiglie il vetro che si rompe ma dov'è il corpo di quello il bambino muore a a dai 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 segreto quindi a portare il bambino aiuto il papà senza testa e il bambino senza gambe e facciamo un altro livello vediamo vediamo questo aiuto solo il corpo che schifo che schifo aiuto ti prego balestra non ci abbazzare vabbè il bambino ormai è morto aiuto aiuto mi sono incastrato aiuto il mio povero dorso mi stavo saccando il corpo ah lo sto baciando evviva mi sono salvato aiuto 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 ho vinto aiuto il mio braccio e non so che sta succedendo però il nuovo ciccione ciao ciao amici come state io non morirò mai 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 mi sono decapitato beh vedi contro morto ibi davolo di bravo 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 di evviva dal mio corpo yabadabadu yabadabadu aiuta ma non ce la fa mai sto ciccione vediamo il prossimo livello quale sarà non l'abbiamo mai fatto ma che cavolo le persone sono invisibili secondo me fa poco simone ha vinto senza sfacellarsi non ha vinto ancora ma che cavolo le lance che figata ora si spacca la testa ce la fai secondo te secondo me non ce la fa un amore almeno si può decapitare dai mamma mia nel culo nel culo nel culo nel culo ha inventato questo nel culo 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 l'estero nel culo in un culo nel culo al culo ma si muovite evviva ce l'ho fatta no la mia muovra testa il mio piede un piede dove c'ho l'altro la mia muovra testa di uomo ora giocherò io con il commentatore che sarà lì che farò ora ok 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 allora bene spaccato tutto lui ancora non sa giocare bene con gli spiegi comandi e tranquilli caldo caldo si è buttato l'ultimo secondo fa James ma non vuoi farlo farlo bambino continui a riportare almeno in questo livello vabbè è morto vabbè è zitto scegliere il livello scegliere il livello sopravvivi bello sopravvivi non soffri si 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 sopravvivi 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 questo soprav questo play ok scusate scusate ancora non è bravissimo non è un esperto vabbè vi dico quando è pronto allora il video il gioco non si carica se non si carica vuol dire fine video ragazzi vabbè questo è vabbè questo è super vabbè super questo è happy wheels se vi è piaciuto il video cliccate mi piace perché un mi piace non fa male a nessuno poi evviva 9 iscritti dopo quel grande video grazie un saluto da me un saluto da James James Caz ciao quindi da 3 2 1 ciao a tutti ragazzi